Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Porta un fiore sulla tomba della mamma, ma una vespa lo punge provocando uno shock anafilattico che si rivela letale. È morto nella serata del 30 luglio nel reparto rianimazione dell'ospedale di Cattinara a Trieste lo chef triestino e sommelier Mark Pavel. Aveva 47 anni ed era molto apprezzato anche all'estero. Tutto è iniziato venerdì, quando è stato punto da una vespa. Nonostante la puntura, si è messo alla guida della sua macchina per tornare a casa sul carso triestino ma durante il tragitto si è sentito male. Sceso dall'auto, ha avuto un arresto cardiaco. Sono stati i vicini di casa a chiamare il 112. I sanitari lo hanno rianimato e trasferito in ospedale. Le sue condizioni sono andate via via peggiorando fino al tragico epilogo. Siamo tristi e increduli. Pavel era un amico e una delle colonne portanti dell'Associazione Cuochi Trieste. La sua esperienza e la sua allegria ci hanno accompagnato in innumerevoli avventure. Sono tanti i momenti che porteremmo nel cuore e tutta l'Associazione lo ricorderà con affetto. Si legge in un post su Facebook dell'Associazione Cuochi Trieste.